se anche voi adorate le canzoni mettete mi piace e iscrivetevi al canale buona a tutti ragazzi bentornati in questo video con noi io sono Antonio Adorio adesso mettiamo una bella canzone mentre registriamo la musica vabbè non c'è una fredda non so se si sente ecco mamma devi fare canna se sono qualche canna sono ancora sveglio quando gli altri fanno a nanna non mi piace la bianca una cossina e una gialla esco di casa una scalpa diversa dall'altro cambio la tigua come cambio flu le vuole entrare nel back allo show vuole nel back tutto quello di sicuro vuole fare sicuro salì giochetti con il l'alipa non c'è l'alipa non c'è l'alipa non c'è l'alipa quando vedo i paparazzi faccio un backflip la mia tipa non d'accordo a netflix dentro al backflip d'ascia non c'è l'alipa tutti ce l'hanno con me mi voglio bene lo staz non c'è l'alipa toaletta ma esci sempre con un chance questo è un motivo è un tipo che la fa superman superman torno a casa facendo un volto ma esci sempre con un volto basso spesso gli avvicinati ma esci sempre con un volto spesso ma esci sempre con un volto spesso co Italia, basta che poi, poi, non dici aia, su un ruffo dell'Imaraya, dragone, sputo paia, ho un milione, nel giorno...